Belli freschi, post partita, Cagliari-Milan, 3-1, bello solido, alla fine posso dire partita di cui sono soddisfatto, sono soddisfatto, perché comunque sì abbiamo preso un gol del cazzo all'inizio per un errore di Adelì mi pare, vabbè comunque non ha giocato male in generale Adelì e è preso, dici così tranquillamente. Poi vabbè, recuperato subito, erroraccio di Radunovic, gol, altra cappellata di Radunovic, altro gol, poi s'è stata da fuori la Sucic, 3-1 a casa, alla fine abbiamo fatto tre gol, preso uno per un errore contro il Cagliari, ci può stare, partita solida secondo me, perché alla fine abbiamo concesso quasi un cazzo dopo aver fatto l'1-1, quindi, secondo me, cioè sono molto più soddisfatto di questa partita, anche se abbiamo preso gol, rispetto a quella col Verona, perché ne abbiamo fatti tre, abbiamo giocato meglio e soprattutto si sono visti giocatori che di solito non è che non si vedessero, però si gasa, si gasa così, perché vabbè, gol di Okafor, gol di Tomori, gol di Loftus-Cic, quindi direi molto bene. Bene, assist di Pulisic, speravo segnassi visto che siamo dal Fanta, però comunque va benissimo così, e 3-1 solido, poi l'Inter ha perso, quindi siamo pari punti, ovviamente secondi per differenza reti, ma ha pari punti con l'Inter. Quindi posso dirvi ragazzi, io sono contento di questa giornata dal punto di vista del Mina, dal punto di vista dell'Udinese, non stiamo a parlarne, però comunque, bene, giocato bene, bene, vinto, un errore, comunque recuperato subito, non ci siamo abbattuti, perfetto, e vi posso dire che l'anno scorso una partita del genere, quei giocatori dell'anno scorso non l'avremmo sfangata così, sarebbe probabilmente finita 1-1, perché Pioli avrebbe fatto turnover, quindi direi che un passo avanti all'anno scorso l'abbiamo fatto, nonostante sia stata la Battlestar nel Derby. E ora, occhio alla Champions.